Sotto il chiarore di 96.000 lucine, una per ogni abitante di Pesaro, si è acceso l'albero di piazza del popolo e con esso i 40 giorni di eventi natalizi Pesaro nel cuore. E se la pioggia domenica ci ha messo lo zampino, sabato invece la città si è goduta un centro storico vestito a festa e bardato di mascherine, quelle obbligatoriamente previste nelle principali vie dei mercatini natalizi come da ordinanza comunale che imporrà fino al 9 gennaio il vincolo al dispositivo di protezione dalle 10 alle 22. Obbligo rispettato, tante mascherine ma nessuna multa e divertimento in sicurezza. Dalla rinnovata pista di ghiaccio della piazza alla novità dell'Islide via Curiel, dalle animazioni di DNA e coccole sonore al trenino Pesaro Express fino alla novità del villaggio di Natale in piazzale Matteotti. Il tutto col fascino di sempre delle casette rosse e dei loro mercatini diffusi per le vie del centro. Da Pesaro risalendo le colline la magia del Natale è tornata ad avvolgere anche candele a Candelara riproposta per la diciottesima edizione dopo un anno di assenza in formula ridimensionata capace di contingentare le quasi 5.000 persone arrivate in due giorni nel borgo illuminato come sempre dalla luce fioca delle candele. Da Candelara a Monbaroccio c'è stato lo start al Natale che non ti aspetti, partito sotto il fascino della magica neve artificiale caduta sul borgo e sull'atmosfera onirica che ha ammantato mercatini e attrazioni per i più piccoli. Questo mercatino ci mancava tantissimo, un mercatino che ci rende gioia e ci dà una speranza, una speranza in più per quelle che sono le difficoltà che stiamo affrontando ogni giorno in maniera abbastanza così delicata e che ben conosciamo. Un motivo in più perché mi inorgoglisce il fatto di vedere tutti questi volontari sul territorio, tutte queste casacche gialle che si danno un grande affare, tutti coloro che sono dietro i fornelli che cercano di ospitarvi al meglio. Un motivo in più perché tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo per il territorio e per cominciare a rivedere un percorso un pochettino più sereno a fronte appunto del periodo pandemico che stiamo affrontando. Qui oggi da questo bellissimo castello, da questa bellissima posizione anche rivolta sia verso l'Appennino che verso il mare inauguriamo il Natale che non ti aspetti e Natale a Monbaroccio. Un grandissimo evento di rilievo e soprattutto di uno spessore veramente importante che destagionalizza il periodo vacanziero. Quindi da questo periodo avremo gli alberghi tutti pieni su tutta la nostra provincia e non solo. Domenica pomeriggio è anche partito il Natale di Vallefoglia con l'accensione dell'albero in piazza della Repubblica a Montecchio. Però è che è un segno anche di fiducia, di speranza, di futuro. Dietro le nostre spalle c'è la Proloco che fa le Caldarozzo, insomma il Vimbrulè, insomma come messaggio verso le feste di Natale nonostante i limiti, nonostante tutto. Va un ringraziamento anche all'Ambima che è l'Associazione Nazionale delle Bande Italiane perché ha messo insieme la banda di Vallefoglia con quella di Montefelcino. È un segnale anche questo di rinascita, di ripresa e di fiducia nel futuro nonostante un momento molto difficile.